Ciao a tutti, Unyuan Lintong. Da domani, 16 febbraio 2024, inizieremo un seminario online sul canale centrale Unyuan. Se siete interessati e volete partecipare, potete contattarmi. Questo è un alto livello di pratica del Zenenci Kung. E' il quarto livello. Questo canale è diverso dal canale centrale che c'è anche nello yoga. Anche lo yoga ha la pratica del canale centrale. Ma la pratica del canale centrale del Zenenci Kung è differente da quella dello yoga. Tutto il corpo è il canale centrale. Mentre il canale centrale nello yoga è solamente da Baohei a Huin. Mentre il canale centrale del Zenenci Kung è in tutto il corpo. Nelle braccia, nelle gambe ed anche nel nostro tronco. Tutto il nostro corpo è centrale. Se volete unirvi e partecipare a questo corso, vi darò maggiori dettagli. E' composto da due parti. La prima parte è la pratica delle sette porte. E la seconda parte è composta dalla meditazione statica con le mani. Siete i benvenuti. Siete i benvenuti.